Stupido, com'è? Io sono stupido. Sono stupido perché a me mi avete trovato sempre in prima fila. Con coraggio. Io c'ho il coraggio e do coraggio a voi. Ripetere, deve fiorire. Se fioriamo noi e abbiamo più coraggio di affrontare. Perché noi dobbiamo fare una grande battaglia. Questi sproveduti che sono la regione siciliana lo dimostrano tutti i giorni che sono sproveduti. Un giorno sarà sull'UPD, non l'UPD, non l'UDC, non l'UPD, no, l'UPDF. Ma dove siamo arrivati? Fanno poesia la regione siciliana. Siamo così di prenderlo, aspettate nel culo, scusate la parola. Ma se gioco giochiamo, al forza di affrontare i problemi della Sicilia, fanno paesi fra loro. Ma perché è questo? Perché gli manca la materia grigia nel cervello. Se io fosse vicino a quest'oro, me la direi un po' di materia grigia con tre, di due, di mezzo. E' possibile, amico, possibile, che se senza serietà, non si piaccia una cosa. Tanto ci sono uomini seri che ragionano e muovono a discutere, trovano subito la soluzione del corpo di problema. Ma non lo risolvono perché qui dentro, qui dentro, ci manca qualcosa a questi sproveduti. E se noi non gli facciamo vedere niente, questi non li smettano di fare poesia. Affrontiamoli con coraggio. Non mi lasciate solo a Sibela. A Sibela mi hanno lasciato sempre dole. Dico, fate voi, sempre dole lo lasciate. E io ho contato il caccio di Gimitelli, tutto per l'altro. Io non ho paura. Ho paura solo se questo paese non lo do più. Grazie. Grazie.